Mi aspetto di sicuro una Sampdoria, al di là delle sconfitte e delle vittorie si guardano spesso le prestazioni perché a volte i risultati non sono poi così in linea con le prestazioni. Nel caso della Sampdoria ho visto a Napoli, ha fatto un'ottima gara contro una squadra fortissima, cinica, non sono stati fortunati ma hanno fatto un'ottima partita, quindi hanno dei giocatori di altissimo livello. Tre partite di campionato non sono indicative per nessuno, soprattutto quando si cambia un allenatore, anche se ci sono valori tecnici importanti non sempre si riesce a fare subito quello che un allenatore vuole. I ragazzi erano abituati da tanti anni a stare con un altro allenatore, però è una partita pericolosa, insidiosa, uno stadio importante, ci sarà un pubblico molto caldo a favore, anche se io confido sui nostri che sono sempre venuti in trasferta numerosi, ci daranno una mano contro un avversario di sicuro non semplice da affrontare. Grazie a tutti.